E' allarme finanziamenti per le scuole paritarie del territorio aretino. A lanciarle la FISM provinciale con un comunicato stampa denso di numeri e polemiche. In provincia di Arezzo le scuole paritarie sono 38. Ad esempio, circa il 25% dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia lo fanno presso queste strutture. Nel solo comune di Arezzo sono presenti 11 scuole dell'infanzia paritarie, frequentate da circa 680 bambini. Si prende atto, si legge nel comunicato, con sconforto e allarme, che i finanziamenti statali alle scuole paritarie dell'infanzia in arrivo nei prossimi giorni saranno di circa 2.000 euro lordi, in forma di acconto per l'anno scolastico 2013-2014. Nel frattempo, la legge di stabilità varata in questi giorni autorizza per il 2014 la spesa di 220 milioni di euro a fronte dei 580 necessari per allinearsi al livello dei contributi del passato. Per l'anno scolastico 2012-2013 è stato erogato un acconto di soli 14.000 euro e per quello in corso soltanto 6.000. Insomma, finanziamenti con il contagocce e sempre più esigui. In questo quadro drammatico si colloca l'iniziativa della Regione Toscana in accordo con la FISM regionale per la concessione di buone scuola destinati alle famiglie dei bambini frequentanti anche le scuole dell'infanzia paritarie. Un unico dato positivo controcorrente, per questo ancora più meritorio, ma non risolve il problema dei mancati contributi. Così, conclude la FISM, siamo al collasso, ovvero prossimi alla messa e liquidazione. L'unica alternativa, come sempre, è chiedere un ulteriore contributo alle famiglie.